Sì, 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 anche così. Ok, sì, ma c'è anche il cantante. Dove? 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 E quello? Tranquillo. No, 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 stai stai. Oh, no, 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 no. Sì, allora, avviate, avviate, sì sì no faccio tranquillo, chiedo scusa signore, posso fare un annuncio? Ci sto chiedendo, questo glielo dobbiamo passare. Come fai? Schiaccio? Sì, schiaccio. Buongiorno a tutti, in occasione della recente riattivazione del collegamento Varese Porto Celesio e dell'apertura delle nuove linee S40 Varese Mendrisio Como ed S50 Varese Mendrisio, Trenord, Tilo ed RFI vi danno il benvenuto. Ma mi sa che non va, eh? Non ti ho sentito più, mi sa che non ti ha sentito. Prova? Facciamo. Prova? Schiaccia, schiaccia, schiaccia forte. Prova? No, non prende il tasto. Prova? Trenord, Tilo e Cilio. Ok, attracciola un po' Vado nella cabina di coda, vado nella cabina di coda e lo rifaccio di un po'. Ce la voglio aiutare? Vado in in porta, perché sì. Ponte, voglio ammettere. Ponte, voglio ammettere. Ponte, voglio ammettere. Ponte, voglio ammettere. Di sferta. Questo è il ponte, sì, questo è il ponte che hanno allargato un pochino. Ma ce l'ho aperto, ciao. Ponte, voglio ammettere. Ponte, voglio ammettere. Ponte, voglio ammettere. Ponte, semplice. Ponte, una bomba. Grazie a tutti. 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 Ok, io posso togliere il coltello. Sì, adesso dopo questo segnale qui che lampeggia, a destra si va a Mendrisio e a sinistra si va a Porto Celso. Noi andiamo a sinistra. Noi andiamo a sinistra. Praticamente andiamo sulla vecchia linea che però è stata rifatta tutta nuova, però il tracciato è ancora. Noi andiamo a sinistra. 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 Ah, un po' perso il conto. Ah, ecco qua diventa binario unico. Che è visto a scresa. Noi andiamo a sinistra. Noi andiamo a sinistra. Noi andiamo a sinistra. Guarda se ci sono cose curiose. Anche questo pezzo qua. Non posso scendere a guidarmi. No, devo fare una foto mentre guida poi vado via. Non riesco a farla. Perché non è così bello perché tutti i video che l'hanno fatte. E devo farla anche io. Deve essere presente l'operatore. Se puoi venire e dicendo che ci saranno. Noi andiamo a farlo. L'hanno appena riduvenata. Un po' ancora a finire i lavori. Perché qui tanti studenti. Sì, sì. Infatti la... Questa linea infatti adesso che ha riaperto gli studenti ha ricominciato. L'ira, eh? Sì, sì. Penso che ripagherà anche gli investimenti. Sì, ha creato un po' di disagi. Per tutti i residenti delle comuni qua. Perché ci ha messo un sacco di titolo. Però no, ha un bel lavoro. Ma poi anche il collegamento con la Svizzera. Da Varese a Como non c'era un collegamento. C'è più. L'hai fatta la stazione qua? Sì, sì, sì. Ma arriviamo a Porto Ceresi. Sì. La Porto Ceresi è bellina. Poi l'hanno rifatta tutta bella. Ma come il panorama è anche... Quindi noi arriviamo a Porto. Arriviamo in Porto. ... 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